Bene amici questo è il primo di due video che farò in collaborazione con ABB per aiutare chi ha comprato sta pensando di comprare una vettura elettrica a capire cosa fare per la ricarica casalinga il secondo video mi sono fatto qualche appunto perché voglio rendere questi video abbastanza semplici e comprensibili sono argomenti magari non facilissimi quindi ho qualche appunto sarà relativo alla normativa per installare una wallbox in ambito condominiale ci sono anche degli incentivi insomma un argomento interessante tra l'altro se avete domande in questo ambito fatemelo qua sotto nei commenti ma perché ABB? Beh semplicemente perché è uno dei più grandi player mondiali e poi ha wallbox di ogni tipo da queste piccoline fino a stazioni di ricarica a 50 kilowatt ma hanno appena presentato una stazione di ricarica a 360 kilowatt quindi veramente hanno di tutto ma prima domanda da porsi ci serve davvero installare una wallbox e poi l'altra domanda a cui cercherò di rispondere è dobbiamo cambiare il contatore se abbiamo il classico contatore da 3 kilowatt e qua la risposta è dipende dipende da cosa? Da quanti chilometri al giorno si fanno di media attenzione ho detto di media perché per gestire i picchi è molto meglio utilizzare l'infrastruttura di ricarica pubblica se io faccio quotidianamente 100 chilometri magari una volta al mese prendo e faccio il viaggio di 4-500 chilometri è inutile anche economicamente andare a strutturare una stazione di ricarica per i 4-500 chilometri invece è meglio dimensionarla per i 100 quotidiani allora qua ho tutte le soluzioni per la ricarica casalinga a partire da quella più economica perché ci viene fornita dal costruttore della vettura ovvero il caricatore da presa sciuco standard perché può anche aver senso non comprare una wallbox vi faccio un esempio mediamente per aumentare l'autonomia di 100 chilometri della vettura ci vogliono 10 ore con questo caricabatterie perché tendenzialmente tutti i caricabatterie in dotazione delle vetture succhiano 2 kilowatt dalla rete in questo caso non bisogna cambiare il contatore a patto che quando caricate la vettura non ci siano altri utilizzatori ovviamente che vanno a superare una potenza complessiva di 3 kilowatt a monte una cosa importantissima attaccare questa spina a una presa ma soprattutto a un impianto elettrico protetto e a norma perché un carico comunque di 2 kilowatt per tante tante ore può generare degli surriscaldamenti e dei problemi quindi attenzione questa è una cosa veramente molto molto importante altrimenti c'è il mondo delle wallbox che possono essere o portatili o fisse io ho fatto una prova qualche mese fa di questa che è una stazioncina di ricarica una wallbox portatile è una soluzione molto flessibile la si può staccare la si può portare dietro ma è cara perché non costa poco e soprattutto si va a rovinare perché attacca, stacca, porta dietro fa e disfa guardate la mia è abbastanza rovinatina soggetta a usura l'altro mondo invece è quello delle wallbox ovviamente queste rimangono attaccate al muro non le si può portare via ma sono molto più affidabili e stabili nel tempo mondo wallbox che potenza vado a installare la wallbox perché le wallbox ci sono da 3.6 kilowatt fino a 11 o addirittura 22 anche qua dipende dal dimensionamento cioè da quanta strada faccio perché con una wallbox da 3.6 kilowatt in 6 ore carico i miei famosi 100 chilometri con una wallbox da 7.4 i 100 chilometri di carico in 3 ore invece se devo aumentare ancora la potenza devo passare a un impianto trifase quindi posso arrivare fino a 22 kilowatt però da dire che il 90% delle vetture elettriche in circolazione hanno un caricabatterie da 11 kilowatt quindi lì mi fermo e per caricare 100 chilometri con 11 kilowatt ci vogliono 2 ore altro fattore da tenere in considerazione per dimensionare la wallbox è proprio quanta energia può succhiare al massimo la mia vettura perché se ho una plug-in e mi succhi al massimo 3.6 kilowatt è inutile mettere magari una stazione di carica a 11 magari la aumenterò o la dimensionerò quando compro una macchina che mi succhia 11 kilowatt oltre come dice prima ABB fa delle soluzioni interessanti come questa Terra 54 ma sono soluzioni dedicate al mondo delle aziende o dei condomini perché potrebbe avere senso magari fare una di queste stazioni fast in condominio e poi andare tutti a caricare lì ma ripeto è un altro ambito torniamo alla Terra AC che ABB produce in due diverse soluzioni quella standard e quella mid cosa cambia? che quella standard non ha un display LCD ha solamente i led per andare a vedere che cosa sta succedendo tutte e due queste stazioni di ricarica possono essere gestite da un'applicazione via bluetooth dalla quale possiamo configurare anche la potenza di ricarica possiamo vedere lo storico delle ricariche possiamo andare a vedere cosa sta succedendo in tempo reale e tutte e due queste wallbox possono essere collegate o in wifi e quello è standard oppure in opzione c'è un modulo 4G aggiuntivo con il quale vengono immesse in rete e da un portale dedicato si possono andare comunque a gestire l'altro vantaggio delle wallbox è che possono essere inserite in un impianto domotico e quindi possono gestire dinamicamente la carica in base al consumo della casa e qua torniamo a bomba con la domanda se dobbiamo cambiare il contatore la risposta è no se ci bastano appunto i 2-3 kilowatt e se abbiamo una gestione dinamica dei carichi perché queste wallbox se le attacchiamo dei meter possono aumentare o diminuire la potenza dinamicamente possono anche staccare oppure iniziare la ricarica quando i consumi dell'abilitazione sono inferiori a determinati standard ovviamente sopra questa potenza di ricarica bisognerà cambiare il contatore ma c'è una sperimentazione fino al 2023 del GSE che è il gestore della rete elettrica nazionale che permette solo se si hanno delle wallbox intelligenti di erogare fino a 6 kilowatt senza cambiare la potenza contrattuale che rimane di 3 kilowatt e questi 6 kilowatt vedranno erogati in orari notturni in settimana oppure nei weekend questa seconda stazione di ricarica che è sempre terra ma si chiama mid quindi aggiunge questo suffisso ha in più un display LCD con il quale vedere cosa sta succedendo nella wallbox e ha anche la possibilità di avere un meter cioè un contatore di energia certificato mentre l'altro ha il contatore di energia ma non è certificato entrambi possono essere gestite anche con delle tessere RFID ed entrambe possono essere programmate da applicazione per andare a erogare magari in determinati orari o andare a gestire anche più utenze ma quanto mi costano le varie soluzioni perché anche quello è un fattore importante per prendere una decisione beh il caricatore di serie non vi costa niente perché tutti i brand ve lo danno compreso nel prezzo della macchina una stazione di ricarica portatile affidabile mi raccomando sono anche cose lucos cinesi lasciate perdere siamo attorno ai 1000 euro una wallbox dipende dalla potenza installata si va dai 4-500 euro fino agli 800 euro per questa tipologia di terra AC terra AC mid costa tra gli 800 e i 2000 euro proprio in base alla potenza che potrà erogare al massimo quindi concludendo è un dipende io spero di avervi dato gli strumenti per capire se dovete mettere una wallbox se non dovete metterla se andare avanti con il caricatore che vi da di serie la vettura ma se avete dubbi magari nei commenti fatemi domande cercherò di rispondervi puntualmente e vi do appuntamento al prossimo video che secondo me sarà molto interessante cioè wallbox in un contesto condominiale mi raccomando nei commenti vi risponderò ciao